Lo sappiamo tutti che la grammatica inglese è essenzialmente semplice, soprattutto se equiparata a quella italiana. La difficoltà maggiore dell'inglese è nella pronuncia. La pronuncia mette in crisi anche i migliori studenti, soprattutto quando si ritratta di ricordare la pronuncia e ricordare come è scritta una parola. Associare queste due cose veramente crea un caos totale. Un esercizio molto efficace è l'esercizio dello shadowing. L'esercizio dello shadowing consiste proprio nel fare l'ombra. Cosa vuol dire? Vuol dire ascoltare un pezzo di inglese e mi raccomando in questo caso il pezzo di inglese che devi ascoltare deve essere un pezzo di inglese vero. Un pezzo di inglese preso da un film, preso da uno speaker alla radio, un pezzo di inglese originale, un pezzo di inglese non fatto per studenti possibilmente o a seconda del tuo livello deciderai tu stesso cosa fare e in quel pezzo di inglese prendere e cercare di captare parole sparse qua e là e appena le capti appena senti una parola che sia una parola semplice come hello, come one, come how you doing, come do. Qualsiasi parola tu ascolti che sia semplice o difficile che riconosci subito la ripeti molto velocemente perché poi non vorrei perderti il continuo della conversazione. Quindi la regola di questo gioco è stare concentrati in maniera top per un brevissimo tempo. Lo shadowing si fa per due massimo tre minuti con un'altissima concentrazione. Ascolti appena riconosci una parola che conosci anche tu in inglese la ripeti, riconosci un'altra parola, la ripeti, riconosci un'altra parola e la ripeti. L'esercizio è tutto qua. Quali sono i benefici di questo esercizio? Il primo beneficio lo vedrai da te quando farai questa pratica. Farai questa pratica quotidianamente perché due o tre minuti al giorno si trovano e vedrai il risultato con il passare delle settimane. Il beneficio proprio tecnico mentale è sciogliere la lingua e soprattutto abituare la mente a non seguire tutto il discorso ma a focalizzarsi in modo molto concentrato solo su quello che capisco e lasciare andare quello che non capisco. Che poi è il segreto per parlare inglese vero in totale rilassatezza e libertà. Sono Stefano Roganti, il fondatore di www.inglesevero.it. Thank you very much. See you on the other side.